Musica Chiude come meglio non poteva il 2017 la metà extra viola Reggio Calabria che al Palla Calafiore travolge Agrigento con l'impronosticabile punteggio di 96 a 64. I siciliani davvero mai stati in partita che oggi al Palla Calafiore hanno trovato la loro peggiore prestazione forse addirittura dell'intero 2017. Bisogna ricordare però che alla mancata mancava il capitano Evangelisti e al 19esimo è dovuto uscire per infortunio il lungo usa Jalen Cannon quindi più di un cerotto per la formazione di coach Ciani oggi a Reggio Calabria. Partenza super della metà extra che con un ball d'assale da 6 punti e un assist nei primi 3 minuti vola sul più 8 obbligando subito al timeout coach Ciani ma l'ala forte Italo-Svizzera continua ad essere incontenibile nel pitturato e riesce a raggiungere la doppia cifra già dopo 8 minuti tendo a scappare la viola sul massimo vantaggio di più 12 con il quale terminerà la prima frazione di gioco col punteggio che recita 23 a 11 per i padroni di casa. Secondo quarto decisamente più equilibrato del primo perché adesso il canestro lo vede anche la Moncata che prova a ricucire il gap con la sua coppia a stelle e strisce Williams Cannon che con un canestro a testa cercano di tenere a galla la squadra di coach Ciani. Dall'altra parte però è Roberts e on fire e al 15esimo è 4 su 4 per la guardia ex Siena-Caserta e fortitudo Bologna da 3 punti con la viola che scappa addirittura sul più 20 ma qualora non l'avesse già fatto appuntatevi il nome di Simone Pepe e il classe 97 infatti che l'anno scorso militava in serie B che con 5 punti in fila riporta Grigento quantomeno sotto di 12. Dall'altra parte è un ispiratore rossato a muovere la retina mentre per Grigento si capisce davvero che è notte fonda quando Cannon al 19esimo appunto come vi ho ricordato in anteprima è costretto a uscire dal campo per infortunio abbastanza addolorante. Al rientro dell'intervallo lungo la musica stenta a cambiare e la Meta Extra troverà dunque il massimo vantaggio di più 21 al 25esimo grazie soprattutto ad un J Packer che inizia a diventare incontenibile per i rughi agrigentini che non lo riescono in nessun modo a spostare nel pitturato. I ragazzi di Cochiciani si dimostrano però duri a morire anche senza Cannon si riportano quantomeno fino al meno 14. La Moncala però perde anche Pepe per 5 falli la Viola ringrazia e vola sul massimo vantaggio di più 22 con il quale si chiuderà il terzo quarto è già garbage time per quanto riguarda l'ultima frazione alla Palacalafiore con la Viola che schiaffeggia Grigento a suon di triple toccando quota 85 punti già al 35esimo e la Moncala che continua a far fatica e segnare col contagocce il solo Guariglia sembra l'ultimo a crederci è troppo tardi però ormai la gara terminerà 96-69 con i Petroni di casa con Coach Calvani che fa esordire in campionato anche i giovani bianchi e marino e al Palacalafiore assistiamo anche alla prima schiacciata di Alan Agboghan Tanto i compiementi vanno fatti ad entrata è stata una grandissima partita per attenzione, per l'intensità, per l'efficacia, per la velocità e questo è un dato di fatto che non può essere modificato da altre considerazioni e valutazioni è chiaro che per una squadra come la nostra i vacci, i evangelisti, la prima partita di Kenno giocare con Pepe sotto antibiotici da due giorni con 39 di febbre con Zugno che non doveva giocare per una controllatura alla schiena è chiaro che la sommatoria di tutto questo ha complicato la nostra possibilità di essere competitivo nonostante questo sicuramente dobbiamo riflettere su un cattivo atteggiamento soprattutto iniziale perché è chiaro che la partita ha preso una piega immediata troppo immediata ed era evidente che poi nelle attuali condizioni sarebbe stato assolutamente difficile ricucire e ricomporre lo strappo e quindi dovevamo avere la capacità proprio perché eravamo consapevoli delle nostre debolezze e delle nostre mancanze avremmo dovuto avere la capacità di essere molto più lucidi, più cinici, più attenti e più determinati al pari dei nostri avversari che invece lo sono stati fin dalla prima pallatura quindi abbiamo delle situazioni oggettive con le quali non potevamo fare niente e abbiamo una cattiva interpretazione di come poter fronteggiare queste situazioni quindi mettiamoci la grande partita a dire a giocare ed ecco che i 30 punti credo abbiano una logica, una loro definizione assolutamente coerente e dopo la partita inqualificabile che abbiamo fatto al Pratani dove ho avuto vergogna perché non l'abbiamo mai giocata e anche per i nostri tifosi che ci seguono continuamente poi di casa credo prima sia proprio il massimo vedere una squadra che neanche inizia a giocare la partita direi che questa è stata una buona risposta per quanto non l'abbiamo fatto in quella partita e anche per qualche dubbio che ci poteva essere dal punto di vista dell'approccio alle gare vedi la partita con Siena, vedi la partita con Previglio quindi io cerco di guardare un po' a 360 gradi direi che stasera è stata un'ultima risposta contento per Rossato che il fatto che salendo la panchina ha dato un contributo importante ma oltre a Rossato partita importante stasera per me l'hanno fatta Caroti e passi da Nepoti Nudi che è stato in campo la seconda parte hanno entrato per quel colpo che ha preso nella prima parte gli ho chiesto se poteranno entrare nel quarto quarto ma non dite no perché era il lavoro della cambio però direi che anche loro hanno prima pensato a far giocare la squadra che mediamente è quello che deve essere il ruolo per deprendere e poi anche a cercare il paniere dove ci possa stare leggiamo un po' le statistiche della gara fra i nero arancio, Packer con 14 punti e Vine a doppia cifra insieme ad altri 4 cestisti che sono Fabi con 12, Baldassar anche lui con 12 Riccardo Rossato a quota 16 che oggi fa il suo record di punti in una singola partita con la canotta della Viola e poi Chris Roberts 23 al suo massimo stagionale per quanto riguarda il Reggento soltanto 4 invece c'è sì stivano in doppia cifra con Jalen Cannon con 11 punti ma ha giocato solo per i primi 19 minuti Ruben Zugno con 12 Simone Pepe con 10 chiude Tommaso Guariglia che ha fatto più punti dei suoi compagni con 13 punti la differenza l'hanno fatta soprattutto i tiri liberi con la Viola che per la prima volta nella stagione fa 11 su 11 100% i tiri liberi per i nero arancio ma soprattutto la lotta a Rimbaldi stravinta da nero arancio 34 a 26 nero arancio che hanno tirato infatti 65 volte contro le 57 della Moncata Grigento Grazie a tutti Grazie a tutti